buongiorno da obiettivo news oggi 3 dicembre san francesco saverio e della giornata internazionale delle persone con disabilità proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili dopo decenni di lavoro delle nazioni unite la convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata nel 2006 ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica sociale economica e culturale della società la convenzione invita gli stati ad adottare le misure necessarie per identificare ed eliminare tutti quegli ostacoli che limitano il rispetto di questi diritti imprescindibili anche l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio che nessuno si è lasciato indietro quelli comprese le persone con disabilità